il dp file di oggi è un dp file amaro perché lo facciamo di fronte a un'opera d'arte ma veramente incredibile ed emozionante come la cappella sistina questa è forse la più bella moto della storia e la più vittoriosa la ducati 916 996 998 tamburini e castiglioni l'hanno creata e hanno cambiato il corso della storia ebbene qui ad ecma di opere d'arte come queste frutto del genio del coraggio italiano ce ne sono tante tante sotto forma di caschi di tute di stivali di guanti di particolari tecnologici migliori freni del mondo tante componenti nate dal genio italiano dalla voglia di sfidare colossi pazzeschi mondiali giapponesi americani sul terreno dell'inventiva della del voler usare e realizzare dei sogni ed è un peccato che dietro a queste opere d'arte quindi a case come aprilia mv ducati insomma tutte le realtà italiane non ci sia una volontà politica di proteggere un settore che ci rende leader nel mondo come scuola di motociclismo e che crea tantissimi posti di lavoro che vengono da aziende meravigliose è un peccato che signor monti berlusconi o tanti altri se ne freghino di questa realtà e non vogliano proteggerla da una crisi economica profonda è un DP file un po' amaro oggi peccato perché l'abbiamo fatta noi italiani questa meraviglia questa magica 9 e 16 che vuoi